Di rigore Rete Verdi ragazzi Napoli 3 Sampdoria 0 All'ottottottesimo ragazzi Oggi in Napoli Ha stravolto la Sampdoria Ragazzi in Napoli vince 3 a 0 E alla facciazza Di che diceva che erano scarsi Tutto questo lo sappiamo da dove arriva Dal pifferaio di foggia Ragazzi andate a vedere il video Che ho fatto oggi ragazzi veramente Uno schifo il pifferaio Ciao ragazzi